buongiorno buongiorno con le stelle io sono monica amarillis e questa è la mia rubrica astrologica per prenotare una consulenza e il tuo oroscopo personalizzato scrivi a info chiocciola monica amarillis.com buongiorno cari amici e benvenuti nella settimana che va dal 31 luglio al 6 agosto 2023 intanto volevo ringraziarvi perché il canale youtube ha acquisito ormai mille iscritti quindi insomma vi ringrazio per la fiducia e ora entriamo nel periodo clou dell'estate inizia agosto per molti iniziano le vacanze e devo dire però che per le prossime per le prime due settimane di agosto non ci sono grandi eventi astrologici non ci sono cambiamenti di segno da parte dei pianeti non ci sono pianeti che da retrograni diventano diretti e viceversa l'unico evento di questa settimana è la luna piena martedì primo agosto alle 20 e 32 nel segno dell'acquario abbiamo ovviamente il sole nel segno del leone e la luna nel segno opposto quello dell'acquario sapete che la luna piena come la luna nuova sono degli eventi che riguardano comunque i nostri ritmi i nostri ritmi quotidiani ritmi biologici anche perché la luna influenza anche questi ritmi così come la crescita delle piante così come le maree e la luna piena è sempre il massimo del ciclo lunare dalla luna piena in poi quindi fino alla luna nuova che segna l'inizio nuovo mese lunare abbiamo una decrescita un lasciare andare la luna calante infatti è il momento migliore per iniziare una dieta un detox insomma è il periodo in cui anche lasciare andare le abitudini malsane per esempio se volete smettere di fumare è proprio il periodo della luna calante quello in cui è bene iniziare e il momento della luna piena è sicuramente il momento migliore per meditare riflettere capire quali sono stati quali sono state le realizzazioni importanti di questo periodo e cosa fare nel periodo successivo in particolare il sole nel segno del leone la luna nel segno dell'acquario invitano a riflettere sulla creatività sul proprio potere creativo sul proprio potere personale sull'individualità e dalla parte opposta sulla collettività sulle amicizie un'altra cosa importante della dialettica tra leone e acquario è quella delle degli eccessi che è un po simboleggiata dal leone e dell'equilibrio che è invece rappresentato dall'acquario quindi importante capire dove noi eccediamo nella nostra vita che tipo di eccessi possiamo avere per ognuno può essere diverso e dove trovare il nostro equilibrio ovviamente un equilibrio che può essere fisico ma anche mentale è anche il momento di capire qual è l'equilibrio giusto da raggiungere per quanto riguarda i propri cicli biologici i cicli soprattutto di sonno e di veglia perché il leone vorrebbe vivere sempre di notte soprattutto un po una caratteristica di questo segno ama infatti fare le ore piccole le luci artificiali le luci della vita notturna quindi questa luna piena è proprio il momento migliore per meditare per riflettere su dove trovare l'equilibrio migliore nella nostra vita e anche quando fare un piccolo eccesso perché ogni tanto gli eccessi ci vogliono anche diciamo la verità bisogna anche un po buttarsi sfogarsi come vuole il sole il leone allora visto che non ci sono nuove entrate di pianeti in segni diversi ricapitoliamo la situazione vediamo dove sono i pianeti partendo dal pianeta più lento che è plutone che in questo momento si trova a 28 gradi del capricorno retrogrado poi abbiamo nettuno a 27 gradi dei pesci sempre retrogrado urano a 22 gradi del toro quindi è ormai entrato nella terza decade anche urano saturno anche retrogrado ed è a 5 gradi dei pesci giove si sposta dai 13 ai 14 gradi del toro mentre marte ormai nella vergine passa dai 12 ai 16 gradi di questo segno e venere è sempre il leone vi ricordate vi ho detto che venere in questo momento retrograda e rimane nel segno del leone fino a ottobre ebbene torna indietro dai 27 ai 24 gradi di questo segno mercurio nella vergine e anche mercurio rimarrà in questo segno a lungo perché inizierà il suo moto retrogrado in questo segno un po più avanti questo mese al 23 agosto e per il momento si sposta dai 3 agli 11 gradi della vergine il sole progredisce dai 7 ai 14 gradi del segno del leone e troviamo la luna in capricorno inizio settimana e in ariete alla fine della settimana vediamo dunque come andrà questa settimana per tutti i segni e ovviamente come sempre iniziamo dall'ariete ariete che non riceve tantissimi aspetti ma alcuni significativi plutone continua a essere dissonante a chi è nato negli ultimi due tre giorni del segno ma riceve anche il bel aspetto di venere che si trova nella terza decade del leone quindi un segno amico un altro segno di fuoco e quindi questo aspetto mitiga senz'altro la dissonanza di plutone che dura da tantissimo tempo e durerà ancora un pochettino però viene appunto mitigata da venere che porta fortuna benessere soprattutto interiore porta relazioni armoniose aiuta a guarire chi è malato perché venere rappresenta anche la salute quindi cari arieti della terza decade soprattutto se siete nati negli ultimi giorni del segno rasserenatevi perché avete un alleata importante che vi aiuta anche a avere buone relazioni se siete singoli a trovare persone interessanti che vi piacciono eccetera chi è nato tra la prima e la seconda decade ha invece il sostegno del sole quindi vitalità energia voglia di mettersi in gioco ecco forse quelli della prima decade sono un pochino meno stimolati da questo passaggio e non ricevono particolari aspetti il che fa di questa settimana una settimana abbastanza tranquilla senza grandi eventi questo ovviamente vale solo per la posizione del sole potreste avere nel vostro tema natale personale individuale delle posizioni diverse dei pianeti che correggono molto la previsione questo io lo ripeto perché queste previsioni sono molto generiche che riguardano il segno ma voi non siete il segno siete un individuo avete una carta natale una mappa un tema natale personale individuale basato sul giorno ma anche sull'ora e sul luogo di nascita quindi ci sono sempre delle differenze significative da persona a persona la luna questa settimana è molto benevola nei vostri confronti arieti solo lunedì potreste avere un po' la luna storta ma per il resto martedì mercoledì e soprattutto il weekend con la luna nel vostro segno andrete benissimo il toro va molto bene ha parecchi pianeti dalla propria parte l'unica spina nel fianco sono il sole e venere in questo periodo nel leone quindi in un segno dissonante che potrebbe provocare qualche momento di stanchezza fisica aumentale e anche di inquietudine soprattutto per quanto riguarda le relazioni ma sono cose molto passeggeri molto di poco conto in fin dei conti avete nel vostro segno giove che in questo momento sta benificando soprattutto la seconda decade quindi giove porta fortuna porta espansione urano che nella terza decade e porta dinamismo e voglia di fare e poi ci sono altri pianeti da altri segni che vi supportano ovvero saturno sta aiutando la prima decade a costruire delle basi importanti per il futuro marte e mercurio anche stanno stimolando anche mentalmente prima e seconda decade e quindi si tratta comunque di un periodo tra l'altro molto lungo molto costruttivo molto positivo molto fertile cari tori per voi ottima la giornata di lunedì e anche giovedì e venerdì mentre fate attenzione martedì e mercoledì perché potreste avere l'umore un po così così i gemelli potrebbero sentirsi molto inquieti in questo periodo perché ricevono parecchie dissonanze soprattutto marte e mercurio dalla vergine potrebbero rendervi veramente molto nervosi e anche saturno e nettuno dai pesci quindi un'altra posizione dissonante per voi potrebbero rendervi un po insicuri e già questo è un po il vostro difetto perché vi fate prendere sempre dalla testa dalla mente dai pensieri e alla fine vi confondete da sole per il troppo pensare ebbene in questo periodo potrebbe essere anche peggio quindi cercate di calmarvi respirate profondamente fate yoga meditazione ma non fatevi prendere dall'ansia per favore in aiuto vi vengono sole e venere quindi soprattutto per quanto riguarda prima e seconda decade il sole quindi comunque vitalità energia da vendere e per la terza decade venere che aiuta a conoscere persone nuove costruire relazioni armoniose la luna vi aiuta questa settimana martedì mercoledì e anche durante il weekend attenzione invece giovedì venerdì quindi cercate di concentrare le cose importanti negli altri giorni martedì mercoledì sabato o domenica e invece giovedì venerdì potreste essere particolarmente nervosi il cancro sta andando molto bene a gonfie vele direi finalmente dopo un periodo molto travagliato che è nato negli ultimi due tre giorni del segno ancora infastidito dal transito di plutone nel segno opposto che vi porta a riflettere sulle questioni fondamentali della vita ma è anche un transito un po difficile la cosa migliore con i transiti difficili di plutone è cercare di alleggerirsi il più possibile e seguire un po la corrente cioè non andare contro per il resto bisogna dire che avete tutti i transiti favorevoli quelli che vengono dai pesci quelli che vengono dal toro e dalla vergine quindi siete sostenuti al massimo tutte le decadi prima seconda e terza potrete sicuramente passare una bella estate e attingere pienamente alle gioie della vita sia dal punto di vista amoroso che della famiglia degli amici e anche il lavoro ma andrà molto bene questa settimana le giornate migliori sono quelle di giovedì venerdì mentre l'umore potrebbe essere un po fluttuante sia lunedì che durante il weekend il leone nonostante gli aspetti un po difficili che ci sono da qualche tempo che lo colpiscono soprattutto quelli dal toro sta sicuramente beneficiando del sole del passaggio del sole nel proprio segno e anche della permanenza di venere e il sole si sposta questa settimana la prima la seconda decade mentre venere rimane sempre nella terza quindi diciamo che tutte le decadi hanno la loro dose di energia di rivitalizzazione cosa vi disturba vi disturba la dissonanza di giove che riguarda la seconda decade e quella di urano che riguarda l'inizio che è nato all'inizio della terza decade quindi urano porta soprattutto inquietudine voglia di cambiare voglia di sparigliare le carte di buttare giù ricostruire mentre giove potrebbe portare due effetti opposti ovvero o una mancanza di fiducia in se stessi una sorta di pessimismo oppure al contrario una voglia di strafare che però non è sostenuta da una riflessione dalla saggezza e quindi vi porta a strafare senza però concludere nulla e anche l'altro atteggiamento che potrebbe essere provocato da questa dissonanza di giove è quella di compensare con eccessi di vario tipo le proprie frustrazioni quindi godetevi la rivitalizzazione del sole e di venere per esempio quelli della terza decade possono veramente contare se sono single su flirt estivi su nuovi incontri e se sono in coppia possono sicuramente rivitalizzare la loro vita di coppia le giornate no questa settimana sono martedì e mercoledì con la luna nel segno opposto mentre il weekend andrà alla grande vergine cari amici della vergine avete marte e mercurio che è tra l'altro uno dei vostri pianeti governatori nel vostro segno e quindi insomma sicuramente potete fare faville e marte rivitalizza vi dà energia vi dà grinta cose che vi servono per fronteggiare l'opposizione di saturno e quella di nettuno che sono influenze un po deprimenti diciamo la verità soprattutto saturno in opposizione il famoso saturno contro ebbene porta più responsabilità una scarsa energia una scarsa capacità di rivitalizzarsi e riprendersi dai piccoli e grandi colpi della vita quindi sicuramente invece sia marte il passaggio di marte nel vostro segno sia quello di mercurio e poi i buoni aspetti di giove e urano che però coinvolgono soprattutto la seconda e la terza decade ebbene vi aiutano a riprendervi a rivitalizzarvi e magari per qualcuno di voi anche cambiare strada soprattutto quelle della terza decade con l'influenza di urano che vi invita a provare cose nuove la luna questa settimana però non vi aiuta moltissimo sarà soprattutto lunedì la giornata migliore con la luna in un segno amico mentre attenzione quando la luna nei pesci e quindi nel segno opposto giovedì e venerdì perché va ad aggiungersi a saturno e nettuno e quindi ad amplificare un pochettino quelle che sono le influenze le sensazioni che potreste ricevere proprio da queste posizioni planetarie la bilancia è un po libera dai grandi transiti in questo momento e va bene così perché sappiamo che nei mesi precedenti dagli anni scorsi anche la bilancia ha ricevuto dei transiti piuttosto pesanti anche in questo momento c'è sempre la quadratura di plutone che riguarda chi è nato negli ultimi tre giorni del segno e che potrebbe essere ancora faticosa perché vi invita a guardarvi dentro e a fare un bilancio della vostra vita che a volte insomma potrebbe essere percepito in modo un po negativo è questo il il rischio soprattutto con plutone in dissonante è di vedere le cose dal punto di vista del bicchiere mezzo vuoto invece che quello mezzo pieno ma in questo momento vi vengono in aiuto il sole e venere quindi soprattutto se appartenete alla terza decade e anche quindi ai famosi ultimi tre giorni del segno vi aiuta venere in buon aspetto e vi rivitalizza vi aiuta a vedere a correggere questa visione del mondo un po pessimistica e ad avere buoni rapporti buone relazioni con gli altri intorno a voi cosa per voi importantissima quindi anche per voi per chi è single flirt nuove conoscenze per chi è in coppia c'è la possibilità di riarmonizzare la propria relazione mentre per chi appartiene a prima seconda decade sarà il sole che vi porta energia e vitalità insomma vi dà quello slancio verso la vita e verso l'azione per voi le giornate migliori sono martedì e mercoledì mentre fate attenzione al lunedì con la luna dissonante e anche al weekend con la luna nel segno opposto e con lì potrebbero emergere i conflitti latenti intorno a voi quindi applicate il vostro savoir faire lo scorpione che si lamenta in questo periodo di essere tra i segni più sfortunati e invece non è così gli scorpioni amano sempre un po drammatizzare le cose è vero ci sono degli aspetti difficili perché c'è l'opposizione di giove che riguarda la seconda decade quella di urano che riguarda la terza e anche la dissonanza di sole e venere che potrebbe far emergere soprattutto nelle relazioni tutti quei piccoli conflitti inespressi quelle frustrazioni latenti che possono scoppiare però avete anche tanti altri pianeti a vostro favore quindi molte frecce al vostro arco ci sono saturno in buon aspetto alla prima decade quindi chiede la prima decade può veramente costruire può guardare avanti e mirare a progetti grandi ambiziosi c'è nettuno che aiuta la terza decade a essere soprattutto creativa fantasiosa quasi geniale e anche plutone aiuta chi appartiene alla terza decade ad avere fiducia in se stessi quindi cari scorpioni non drammatizzate troppo le cose alla fine si equilibrano le giornate più a rischio questa settimana sono martedì e mercoledì con la luna in acquario tutto bene invece lunedì giovedì e venerdì soprattutto quindi le giornate si sono queste tre lunedì giovedì e venerdì sagittario anche sagittario ha parecchie dissonanze che lo colpiscono ma ha sempre dalla propria parte il transito del sole e di venere quindi anche per il sagittario vale quello che abbiamo detto per gemelli ariete e bilancia ovvero sole e venere fanno un po la differenza questa settimana il sole rivitalizza soprattutto chi appartiene alla prima e alla seconda decade e venere aiuta chi appartiene alla terza decade anche qua con nuove conoscenze nuove frequentazioni armonizzazione delle relazioni consolidate chi appartiene alla prima decade soprattutto i primi sei sette giorni della del sagittario quindi sostanzialmente i nati in novembre facciano attenzione perché con il la dissonanza di saturno i nodi vengono al pettine quindi c'è bisogno di grande serietà di grande attenzione i transiti negativi di saturno non sono negativi di per sé perché insegnano sempre moltissimo e saturno ha bisogno di etica ha bisogno di serietà quindi quando ci si comporta in questo modo anche durante i transiti tra virgolette negativi alla fine in realtà il transito non sarà così negativo di per sé ma può sicuramente insegnare moltissimo vi darà forse più fastidio però in questo momento la dissonanza di mercurio e di marte che può portare molto nervosismo soprattutto se appartenete alla prima e alla seconda decade quindi fate attenzione un po tenere sotto controllo gli scatti di collera le giornate no sono quelle di giovedì e venerdì e mentre avete parecchie giornate sì al vostro attivo ovvero quando la luna è in acquario martedì e mercoledì e quando la luna è in ariete sabato e domenica il capricorno come sempre in questo periodo ha degli ottimi transiti e per chi mi dice che non è vero che sta andando tutto male nonostante sia del capricorno ripeto e ribadisco che voi non siete il segno del capricorno per quanto vi potrebbe piacere essere il sole nel segno non siete solo il sole avete la luna avete mercurio venere marte giove saturno nettuno urano e plutone nel vostro tema natale questi pianeti possono essere in segni che invece ricevono parecchie dissonanze per cui ovviamente la situazione viene corretta io quando parlo di transiti sul segno parlo ovviamente del segno quindi voi avete il sole in questo segno ma magari avete venere in acquario mercurio in acquario e quindi la situazione viene completamente corretta in senso purtroppo in questo momento negativo perché l'acquario non sta ricevendo dei buoni aspetti allo stesso tempo chi è dell'acquario e invece magari ha un po di pianeti nel capricorno nei pesci anche qui la situazione si corregge in senso positivo insomma lo zodiaco è uno strumento molto saggio per cui noi spesso abbiamo pianeti un po' disseminati può essere che abbiamo una concentrazione di pianeti in due o tre segni ma non è mai quasi mai in un solo segno è quasi impossibile che lo sia e quindi abbiamo varie correzioni nel bene e nel male quindi nel bene perché quando ci sono dei transiti che colpiscono il nostro segno abbiamo magari dei salvagenti diciamo così che corrispondono ai pianeti in altri segni e allo stesso tempo è raro avere solo transiti positivi perché abbiamo quasi sicuramente dei dei pianeti in segni che vengono colpiti da qualche aspetto dissonante ma ovviamente come sempre come spesso spiego l'aspetto dissonante non è mai solo non viene per colpirci come il fulmine di giove e incenerirci no è sempre uno strumento evolutivo che ci insegna a capire intanto i nostri punti deboli i nostri punti forti e a svilupparci a evolverci come esseri umani imparando le nostre lezioni di vita quindi comunque tornando al segno del capricorno il capricorno è ben aspettato quindi a vari aspetti positivi che riguardano tutte le decadi e quindi tutte le decadi sono stimolate dal punto di vista mentale intellettuale fisico se appartenete soprattutto alla seconda decade con giove in buon aspetto potreste aspettarvi qualche aumento di stipendio comunque qualche entrata in più insomma è il momento anche di mettersi degli obiettivi ambiziosi di guardare avanti soprattutto se appartenete alla prima decade se appartenete alla terza lasciatevi coinvolgervi dalle novità dalle cose nuove perché saranno sicuramente positive e per quanto riguarda le emotività questa settimana lunedì inizia molto bene ma attenzione invece al weekend con la luna un po storta e le giornate più positive saranno sicuramente il lunedì appunto e giovedì e venerdì per l'acquario abbiamo visto che non ci sono aspetti molto positivi per l'acquario in questo momento ma anche voi non siete il segno e probabilmente avete dei pianeti nei segni contigui ovvero il capricorno e i pesci che correggono positivamente la situazione quindi allora il segno dell'acquario in questo momento riceve l'opposizione del sole e di venere che potrebbe soprattutto il sole determinare qualche giornata di stanchezza questa settimana se appartenete alla fine della prima decade o all'inizio della seconda mentre giove anche colpisce la seconda decade e vale quello che ho detto anche per il leone ovvero che potrebbe portare qualche atteggiamento eccessivo di compensazione alle frustrazioni oppure portare un pochino di mancanza di fiducia in se stessi mentre la terza decade viene presa di mira da urano e da venere quindi questo provoca moltissima inquietudine che può coinvolgere sia la vita sentimentale che quella lavorativa quindi anche per voi è ben respirare a fondo fare yoga meditare e non farvi prendere dall'ansia perché anche queste situazioni in cui tutto si ribalta in cui le cose sembrano molto instabili in realtà sono molto fertili per il futuro perché sebbene certe certezze vengano messe in discussione vuol dire che si aprono delle nuove strade delle nuove porte e voi da veri uraniani siete maestri nel cogliere le opportunità e le occasioni questa settimana la luna è tutta dalla vostra parte soprattutto martedì mercoledì con la luna nel vostro segno sarete particolarmente intuitivi ma anche il weekend sarà molto buono per voi i pesci anche dicevano parecchi parecchi buoni aspetti però è vero che ci sono anche marte e mercurio nel segno opposto e questo provoca sicuramente nervosismo una sorta di tensione che vorrebbe che si accumula e vorrebbe un po scoppiare ebbene fate attenzione soprattutto se siete della seconda decade perché potreste avere questa sorta di tensione mentre se siete della prima decade potreste essere un po distratti comunque vi aiutano tantissimi aspetti e soprattutto quelli di giove di urano per chi appartiene a seconda e terza decade e poi avete sui vostri gradi saturno per quanto riguarda la prima decade vi aiuta comunque a fare le cose con calma a essere lungimiranti ad avere diciamo una visione del futuro meno meno romantica più concreta ma anche più realistica mentre se appartenete alla terza decade avete nei vostri gradi nettuno che vi aiuta a essere visionari in questo caso sì magari un po troppo fantasiosi però sempre molto geniali la luna è molto positiva questa settimana e particolarmente positiva lunedì giovedì venerdì quindi l'umore sarà molto stabile e con questo abbiamo concluso questa settimana cari amici io vi aspetto la prossima settimana e vi auguro un'ottima estate un'ottima prima settimana di agosto e spero per voi che siate al mare o montagna insomma che vi stiate divertendo tantissimo e riposando alla prossima settimana e dopo il nostro buongiorno con le stelle continuiamo la nostra giornata con spirito alto e buona energia e vi ricordo che se volete un consulto astrologico mi trovate sul sito www.monicaamarillis.com oppure potete scrivermi